Buonasera a tutti ragazzi, buonasera io sono Silverala Oggi siamo tornati in questo nuovissimo video, video post Bari-Ascoli, partita terminata 3-0 Questa forza è la partita che proietta maggiormente il Bari nelle zone più alte della classifica In guaia sempre di più l'Ascoli E ci permette di infilare l'ottavo risultato utile e consecutivo Il Bari non perde dal 17 ottobre Dopo il capitombolo 3-0 con la Ternana qualcosa è cambiato Si vede l'entità che il Bari, che Nicola ha dal Bari Si vede un gioco, si vede una squadra che ha voglia di vincere Una squadra che qualitativamente parlando è forse alla pari solo con il Cagliari Ma inferiore a nessuno, è forse superiore ad altre squadre Di gran lunga superiore ad altri organici della Serie B Dunque Bari-Ascoli era una partita molto difficile Alla vigilia ovviamente partiva favorito il Bari Partivamo favoriti anche col come tutti sanno com'è andata Quindi comunque le aspettative dei tifosi del Bari erano una vittoria Che arriva con un parziale di 3-0 Andiamo ad analizzare però la partita in sé per sé Perché l'Ascoli parte benissimo Infatti Devis Mangia, ex dell'allenatore appunto del Bari Manda in campo con un 4-4-2 con Bellomo alle spalle di... Un 4-4-1-1 con Bellomo alle spalle di Caccia E sono entrambi gli attaccanti del trequartista barese appunto Bellomo E l'attaccante Caccia a diciamo a sfornare la prima vera occasione importante del match Ovvero Bellomo se ne va sul lato di sinistra Mette in mezzo un pallone sul cui si avventa Caccia Che da solo avanti al portiere supera in offside ovviamente alla difesa del Bari E mette alle spalle di Guarna dopo 50 secondi Brivido ma il gol è da annullare perché Caccia è in netto offside Poi il venticinquesimo grande azione personale di De Luca che scarica Ma il portiere appunto Lituano Ora non ricordo il nome ragazzi non me lo chiedete Il portiere Lituano dell'Ascoli compie una grandissima parata E riesce a svettare la minaccia E' solo un preludio al gol perché il Bari spinge e continua a farlo L'Ascoli un po' sparisce dal campo dopo che Guarna compie un altro miracolo Sul seromismale su un altro colpo di testa di Caccia Però il Bari c'è, il Bari in campo è determinato a vincere questa partita Su un grandissimo cross e invito al gol di Isabelli Spunta Valiani alle spalle della difesa E come al solito il nostro giocatore Il 35enne Toscano che da quest'estate è stato prelevato da Latina Ci porta in vantaggio Valiani veramente la rivelazione a centrocampo del Bari di questo campionato Nonostante l'età ha tanto da dare E potrà speriamo darlo anche in Serie A l'anno prossimo Perché se continuiamo così veramente ragazzi Questo è solo un preludio a una grandissima stagione Quindi il primo tempo termina 1-0 Un 1-0 di un primo tempo che è abbastanza equilibrato per occasioni Ma il secondo tempo finisce dopo 50 secondi Quando De Luca si invola sull'altisinistra Mette in mezzo la palla Canini se non mi sbaglio Per evitare che la palla giunga al cuore dell'area di rigore Mette una mano di fronte al suo viso Probabilmente comunque era protezione Ma l'arbitro comanda il calcio di rigore Perché la mano non era attaccata al corpo Quindi sul tocco di mano in area di rigore di Canini De Luca sfrutta questa occasione per prendersi un calcio di rigore Rigore che andrà poi a trasformare Alessandro Rosina Prima rete in campionato non segnava da maggio E mi sembra molto strano Perché ormai Rosina merita il gol E lo meritava forse in altre occasioni Ricordiamo che in ogni partita che disputa Rosina C'è sempre una traversa a impedirgli la gioia del gol Quando sono molto più facili Rosina però riesce a metterla sempre dentro Con un rigore che però era stato intuito Che dire l'Ascoli sparisce dal campo In scioltezza comunque In scioltezza il Bari gestisce Ci provano Bellumo Ci prova Caccia Timidi tentativi di un Ascoli Che ormai per esempio Ormai non ha più niente da dare in campo Sparisce E questi sono comunque gli atteggiamenti delle squadre Che non hanno un organico Diciamo a livello comunque di squadre come Bari Cagliari come dello stesso Crotone Ovvero prendono due gole E poi spariscono dal campo Poi ovviamente su un altro grandissimo cross di Sabelli Migliore in campo oggi sia in difesa che in attacco Arriva una grandissima torsione di Maniero Che stupidamente però si riva la maglia per festeggiare Preferisce passarsi l'Immacolata a casa Piuttosto che andare a festeggiare magari un'altra vittoria a Modena martedì Sarà comunque un ottimo modo per vedere all'opera Puskas Poiché Maniero appunto si prende un giallo Era rifidato e salterà la partita di Modena Quindi che altro? Che altro succede? Dopo il gol di Maniero il Bari gestisce solo la partita Entrano Romizzi Entrano Boateng Ed entra Sansone Quindi in un certo senso cambia un interprete a centro campo E due dei tre attaccanti appunto offensivi Comunque la partita termina senza troppi sussulti da parte dell'Ascoli Che comunque termina prendendo tre gol dal Bari Quindi Bari-Ascoli il risultato finale è 3-0 Partita che lascia ben sperare per il proseguo del campionato Tris importante Siamo secondi a pari punti con il Cagliari che gioca domani Perché purtroppo Dico purtroppo perché mi aspettavo magari una sconfitta da tifoso del Bari Del Crotone che invece vince 2-0 Quindi ragazzi noi ci rivediamo al prossimo video Se questo commento da un tifoso del Bari Che è speranzoso e fiducioso in questa squadra e quest'anno Complimenti a tutti i membri di questa squadra Ma in particolare a quelli che oggi ho visto più attivi Ovvero il solito Rosina, De Luca, Maniero, Sabelli I migliori in campo e soprattutto Valiani Senza poi nulla togliere dal resto della squadra Che ormai è amalgamata al 100% Quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto come al solito Condividetelo, mettete mi piace Iscrivetevi al canale Se vi piacciono appunto queste rubriche di video Relative sia al Bari che all'Inter Perché noi ci vediamo più tardi Con il video probabilmente post-Inter Genoa Comunque ragazzi Grande Bari Stasera abbiamo dimostrato di esserci E continueremo a farlo Bella ragazzi Un saluto dal vostro Silver Allen Ci rivediamo al prossimo video 3 a 0